Francia, Jean-Claude Klein, merci messieurs, ed eccoci quindi Terranova Broholmer Cane da pastore della Boim Cane da pastore bergamasco Cane corso Setter irlandese rosso Barbone, grande mole, bianco Dalmata Pastore australiano Schnauzer Pepe Sale American Staffordshire Terrier Shiba Inu Barbone, media mole, nero Tibetan Terrier Cocker, spagnia, inglese Cavalier King Charles, spagnia, blenem Border Terrier Jack Russell Terrier Maltese Barbone, nano, bianco Chihuahua, pelo lungo Spitznano Attenzione prego Tutti i migliori delle razze italiane nel pre-ring Attention please All best of breed Of Italian breeds In collection ring Thank you Raggruppamento dei veterani che vede confrontarsi tra loro soggetti di età superiore agli otto anni Salutiamo i nostri amici che ci seguono da casa in diretta via streaming su NC TV Direttamente dalla pagina Facebook dell'ente nazionale della cinofilia italiana Benvenuti a questo NC Winner 2018 Le sorprese non mancheranno Imitando una famosa presentatrice con il cuore Molto nutrito come numerosità questo raggruppamento Dei veterani Questa esposizione internazionale di Milano Che rappresenta il primo dei tre giorni di eventi cinofili Che sono l'NC Winner Anno 2018 Qui dai padiglioni della fiera di Milano Ro Per presentare all'Italia, all'Europa, al mondo Quella che è la cinofilia di qualità È bello vedere i veterani sul ring Io lo trovo uno dei ring più emozionante sinceramente Infatti sono soggetti che rispecchiano splendidamente lo standard di razza E nonostante qualche primavera in più Mantengono inalterate le caratteristiche di tipicità e Attitudine al ring Dei soggetti più giovani Spiznano, Maltese Candida Pastore Bergamasco Un applauso agli altri soggetti Prego il Pastore della Brie Di portarsi a giudizio Del nostro giudice Jean Goclein Cane da Pastore della Brie Dal primo raggruppamento Invito tutti i migliori soggetti Delle razze italiane A presentarsi nel pre-ring Il nostro giudice American Staffordshire Dopo il settore irlandese Davanti al nostro giudice Jean Goclein Dalla Francia Maltese Ed ora vediamo sul tavolino Lo Spitz Nano Il nostro giudice è il nostro giudice Cane da Pastore Bergamasco Cane da Pastore Bergamasco Eccoci pronti per premiare i migliori veterani al terzo posto American Staffordshire Terrier American Staffordshire Terrier Complimenti 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 Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori